Ma buonasera, buonasera a tutti quanti, signori. Allora, film di oggi. Sapevo che prima o poi sarebbe successo, sapevo che prima o poi sarebbe accaduto. Ho visto Saw, Spiral, l'eredità di Saw 2021. Allora ragazzi, per quale ragione ho voluto vedere Spiral? Per la stessa ragione per cui io ho voluto guardare, ah, cosa? Legacy. Per la stessa ragione per cui ho voluto vedere Legacy. Perché letteralmente voglio vedere fin quanto trash possono diventare i film di Saw. Voglio vedere quanto un film di Saw può scendere in basso, quanto può diventare trascione. Insomma ragazzi, dai, dopo aver scoperto che addirittura... Quelli che facevano i film di Saw chiedevano su internet ai fan idee per le trappole. Vi fa capire a che punto siamo. Da qualche parte nel mondo c'è qualcuno che si è segato perché le sue trappole sono state scelte per questo film. Però insomma... Allora, il mio pregiudizio su questo film è stato letteralmente la frase di Malcolm Non ho aspettative ma sono già deluso. Ebbene, sì, sono molto deluso. È peggio di quanto mi aspettassi. E guardate che mi aspettavo il bruttissimo. Perché... Mi aspettavo il bruttissimo è meraviglioso. No, è che voi dovete capire che c'è uno che mi ha scritto, non mi ricordo se è su Telegram o su YouTube. Forse nella recensione di YouTube. Forse su YouTube me lo ha scritto. Che... Se Spiral mi ha fatto cacare... No, scusami. Se Legacy... Legacy è quello prima. Se Legacy mi ha fatto cacare... Sono fiorentino, mi ha fatto cacare. Mi ha fatto cacare. Ricordatevi ragazzi, c'è differenza fra cacare e cacare. C'è differenza. Insomma, se Legacy mi ha fatto schifo, dovevo prepararmi perché Spiral era ancora peggio. Era ancora più brutto. E quindi sono detto, guarda tranquillo, tanto prima o poi lo vedrò. Prima o poi lo vedrò, ho una recensione e ce la faccio. E insomma... Da dove comincio? Allora, cerchiamo di raccontare un attimo la storia. Come viaggia. Come viaggia la storia. Allora, perché mi sono preso un po' il blocco degli appunti. Allora, il film inizia con questo tizio a una fiera. Alla festa del 4 luglio. Chissà perché la festa è sempre il 4 luglio. Il film americano. Serve una festività. Facciamo il 4 luglio. Già, è vero. Tutto sommato, come festa, hanno soltanto quella il giorno del ringraziamento. Però va bene. Hanno solo due feste. In America. E quindi devono sfruttarle. Insomma. E c'è un poliziotto che insegue un tizio dentro le fogne. E poi viene catturato da so. Questo poliziotto si ritrova su un piedistal con la lingua attaccata dentro una morsa. E quello che gli viene detto da so è Ehi, guarda, fra due minuti passa il treno. E te hai bisogno di strapparti la lingua se vuoi vivere. Insomma, il riassunto è Puoi decidere se morire dissanguato, scusatemi, puoi decidere se morire schiacciato dal treno oppure morire dissanguato perché anche se ti strappi la lingua e... Allora, in realtà mi ha informato Andrea Barraforà che anche se ti strappi la lingua, se riesci a fermare l'emorragia, non muori. Però, insomma, era letteralmente dentro una galleria di un treno, a chissà quanto sottoterra, e quindi, cioè, anche se si fosse strappato la lingua, non sarebbe durato abbastanza per arrivare dai soccorsi. Quindi, insomma, decidi... Praticamente questa trappola era Decidi come morire, non c'è modo di salvarsi. Quanto è bello vedere che nei primi, so, quando c'era effettivamente John Cramer di mezzo... Cramer, come l'ho detto... Quando c'era... Cromer! John Cromer! Oh mio Dio, qualcuno deve disegnare questa roba! Qualcuno deve farlo! E, vabbè, sicuramente qualcuno ha già fatto Spamton, so, qualcuno lo ha fatto sicuramente. Com'è che ne sono ancora pensato a John Cromer? Lo devo disegnare, oh mio Dio! Insomma, quando c'era ancora John Cramer ed effettivamente le trappole avevano tutte un modo per essere battute, perché... Allora, contesto per quelli di voi che non lo sanno, ma a parte se ascoltate questa recensione presumo che sappiate che cos'è so. Però, ipotizzando che voi sappiate cos'è so in linea di massima, ma non conosciate la lore, allora, John Cramer era il primo vero originale enigmista. E, nelle sue trappole c'era sempre un modo per salvarsi, c'era sempre una possibilità di salvezza. Poi, dal terzo film in poi, hanno iniziato ad essere presenti trappole che non erano battibili. Cioè, probabilmente trappole che te potevi anche fare tutto quello che ti veniva chiesto, ma saresti morto comunque. Insomma, trappole che non erano fatte per essere battute. Però, dal momento in cui iniziano ad esserci trappole che non sono battibili, è anche il momento in cui iniziano ad esserci messi di mezzo anche altri personaggi che prendono il ruolo di enigmista. Perché, ricordiamo che John Cramer muore nel terzo film, e poi ci sono vari eredi che fanno determinate cose. E da quando arrivano gli eredi iniziano ad esserci davvero trappole che non sono battibili. E che, per l'appunto, vanno contro la morale del vero Jigsaw. Ecco, in questo film ci sono trappole che non sarebbero mai battibili, e altre trappole che sono anche fin troppo battibili. Però, insomma, certo ce ne erano anche sorprendentemente poche. Ce ne erano anche sorprendentemente poche, mio Dio, quanto sono rimasto deluso da questo film. Però va bene, insomma... Vabbè, di questo poliziotto, tanto alla fine lui, nell'esatto momento in cui vede il treno e capisce che non può aspettare, decide di saltare giù dallo sgavello, si strappa la lingua, ma tanto muore comunque investito dal treno istantaneamente. Quindi, doppio dolore, perfetto. E insomma, rimarrà traumatizzato l'autista del treno che si è visto questo uomo spiaccicato sul vetro, va bene. Poi che cosa succede? Qui facciamo la conoscenza di Zeke. Zeke. Questo... Aiuto. Questo poliziotto, che praticamente... Cosa fa? Cosa fa? Vuole essere... Il film te lo vuole presentare come il poliziotto buono, che vuole difendere i deboli, che lui è quello che combatte contro la polizia corrotta, lui vuole il bene di tutti quanti, però c'è un problema... c'è due problemi con questo personaggio. Ci sono due problemi con Zeke. Il primo è che la sua morale del voler essere il poliziotto perfetto, che vuole il bene per tutti, eccetera, eccetera, non è credibile, perché poi è una testa di cazzo con tutti gli altri agenti, è una testa di cazzo quasi con tutti. E vi giuro, ragazzi, che io, quando l'ho visto nel film, dopo dieci minuti già lo volevo morto. Dopo dieci minuti aspettavo il momento di gloria in cui alla fine del film muore in qualche maniera orrenda, perché è una testa di cazzo. Vi giuro, l'ho odiato per tutto il film, il protagonista. E insomma... E poi ho anche un altro problema, che è doppiato in una maniera... è doppiato in una maniera che io non riuscivo a prenderlo seriamente. Non riuscivo a prenderlo seriamente, ma il problema è che era il personaggio principale. E quindi, cioè, non so come farvi la voce. Tanto dopo vi inoltre ho anche un audio dove c'è effettivamente la voce del personaggio. Ma nei momenti in cui lui dovrebbe parlare... Devo parlare normale. Nei momenti in cui lui dovrebbe parlare... parlare normalmente... O meglio, deve fare anche il discorso serio. Deve fare il discorso serio e cazzuto agli altri colleghi che lo pigliano per il culo. Cioè, io non lo posso prendere seriamente. Ragazzi, io non sono riuscito a prendere seriamente il personaggio per tutti i tempi a causa di come parlava. Poi per la fine del film, alla fine non ci fa più caso. Forse perché più va avanti il film e meglio riesce a parlare. Ma all'inizio... Ti spiazza. L'inizio ti spiazza un botto sentiremo e palla. Cioè, parlano tutti normale e poi lui parla con questo accento strano. Cioè, quasi come se il doppiatore... No, no, il doppiatore... Sì, il doppiatore è italiano sicuro. Però una qualche cadenza c'è. Però, cioè... Mi spezzava l'atmosfera. Cioè, non mi rendeva il personaggio credibile. Aggiunto al fatto che vorrebbe essere il poliziotto bravo. Che vuole bene a tutti e si batte per i deboli. E poi è una testa di cazzo con tutti quanti. Cioè, lui vorrebbe la pace e la tranquillità, però è una testa di cazzo con tutti. Va bene, ora devo bere perché sto... Ho sete. Allora, Fede, ascolta. Sto guardando l'ultimo film di Saw Spiral. L'ultimo uscito. Che dicono ancora peggio di Legacy. Questa è la voce del protagonista. Ho detto a te, non l'ho detto mica a una donna, sbaglio. A lei non lo dico certo in faccia, non sono mica stupido. Ci siamo appena conosciuti e già mi tratti così. Bene. Dico solo che molti crimini avvengono durante weekend, vacanze. Tu immagini che una che sposa uno sbirro questo lo capisca. Ma no? Un giorno tua moglie si arrabbierà perché tu non sarai riuscito ad andare al compleanno della sorella. A una donna puoi dare 600 giovedì. Non valgono mai tre sabati sera. Questo è il protagonista. Allora. Che cosa succede? Allora. È una testa di cazzo. Però, per quanto due o tre cose stupide le faccia, però un momento di gloria ce l'ho avuto. Un momento di gloria ce l'ho avuto quando alla centrale di polizia è arrivato un pacchetto con una pennina USB palesemente fatta da so e lui giustamente va a inserire la chiavetta del computer del collega perché cito testuali parole non sputtano mica al mio computer. E qui applausi. Qui è dove mi son detto. Ok, il personaggio è doppiato strano. È una testa di cazzo, però perlomeno è intelligente. Forse saprà donarmi qualche gioia. Che ridere, ragazzi. E insomma, cosa succede? Insomma, ci saranno varie indagini. Scopriranno che c'è un imitatore di Jigsaw a giro. E che cosa succede? Praticamente la morale stringata della storia è Jigsaw sta prendendo di mira tutti i poliziotti corrotti della centrale, li sta prendendo tutti e gli sta facendo fare delle prove teoricamente battibili, teoricamente non battibili. E insomma, in qualche maniera sono tutti collegati a Zeke, in qualche maniera. Tipo un collega che aveva rifiutato di venire in suo soccorso quando lui aveva chiamato i soccorsi. Altra gente che ha fatto sempre falsa testimonianza in tribunale. Qualcuno che ha sempre coperto qualche poliziotto che ha fatto qualche cosetta di troppo. Insomma, Jigsaw se la prende con tutti i poliziotti corrotti. Zeke, che è anche il figlio del capo della centrale, che, reggetevi forte ragazzi, è Samuel Jackson. Io mi chiedo, come cazzo c'è finito Samuel Jackson in questo casino? Come c'è finito, poveraccio? Ma come c'è finito? Cioè, ha anche un ruolo cazzuto. E mi piace, però peccato che sia finito in un film così ignobile. E insomma, cosa succede? Zeke è bistrattato da tutti, sia la centrale che dal babbo. E insomma, cosa succede? Cosa succede? Nulla. C'è questo momento in cui Zeke cerca di andare dal padre per le indagini, per fare cose. E si trova letteralmente i corrieri davanti a casa sua con la pizza e la busta del ristorante italiano Terroni. Il ristorante italiano Terroni mi ha fatto morire, ragazzi. Vi mando lo screenshot dopo se non mi credete. Ma mi fa morire perché mi dico, si sono sforzati di cercare un nome per il ristorante italiano. Potevano tranquillamente lasciare il cartone della pizza e tanti saluti. Non serviva nemmeno un nome, ma si sono sforzati di cercare un nome per il ristorante italiano che apparirà sul nome di una busta e mai più. Di tutti i nomi che potevano scegliere Terroni. E questa, signori, sarà l'unica vera gioia del film. No, insomma, cosa succede? Insomma, sarà ovvio per lo spettatore che il padre viene rapito da Jigso e avrà un ruolo importante. Quindi, povero Samuel Jackson viene rapito. E insomma, cosa succede? Succede che alla polizia arriva un terzo pacchetto mandato da Jigso che io mi chiedo quel pacchetto delle stesse dimensioni, stesso colore, stesso modo in cui è stato chiuso, imballato, ecc. Lo avete visto per tre volte. Addirittura dicono lo ha portato il corriere, lo ha mandato il corriere. Cioè, nel senso, è venuto il corriere di persona a consegnarlo. Quindi io mi chiedo, ma la prima... Voi avete già visto quel pacchetto tre volte. È troppo intelligente fare domande al corriere? Cioè, sarebbe la prima persona sospettabile. Cioè, chiede al corriere come hai avuto questo pacco? Chi te lo ha dato? Perché sicuro è proprietà di Soh, anche perché c'è roba di Soh dentro. Quindi il corriere in qualche modo deve aver preso il pacco da qualcuno a meno che... Sì, ma anche se... Ecco, io mi chiedo, ragazzi voglio la lore del corriere di Spiral. Il corriere di Spiral Ha ricevuto il pacco di Gixo Lo deve portare alla centrale di polizia Arriva lì Lo consegna di persona A parte la polizia che ha visto per due volte quel pacchetto e questa è la terza e nessuno pensa a fare domanda al corriere Il corriere come ha ricevuto il pacco? Come lo ha ricevuto? In che maniera? Tipo Che ne so Gliel'ha consegnato qualcuno di persona e l'ha pagato per dire non fare il mio nome Ma anche se fosse stato Guarda Ti ho drogato, addormentato Ti ho lasciato questo pacco Vallo a consegnare alla polizia Oppure Tizio Starà male Che ne so Oppure ti forro le ruote della macchina Insomma Non so che cosa succeda Però Sentite ragazzi Anche se non fosse in pericolo davvero nessuno Anche se Dovesse capitare a me Che mi risveglio in una stanza che non conosco E ho un pacco davanti C'è scritto Porta questo alla polizia Se no Persona X A cui vuoi bene Muore Ora Anche se Quella persona dovesse Essere tranquilla Tranquilla Stravaccata sul divano Stravaccata sul divano Che si sta Letteramente guardando Netflix Eccetera eccetera Con le patatine in mano Io nel dubbio Lo vado a portare Quel pacco alla polizia Poi io dico Io mi sono svegliato in questa stanza E questa busta mi diceva di portarlo qui Mi ha detto Che tizio sarebbe morto Io Non ne so nulla Quindi insomma Magari quella potrebbe essere La vera lord del corriere Anche perché il corriere Arriva anche una quarta volta Nel film E questa volta Hanno il buon senso Di fermarlo E di Oh che cazzo stai facendo Qui non puoi entrare Insomma il corriere Che si Ragazzino Che si sta cacando in mano Viene letteralmente preso Lascia il pacco in terra Viene letteralmente portato All'altra parte E non sapremo mai Che cosa è successo al corriere Non sapremo mai Che cosa è successo Io avrei voluto scoprire Più cose del corriere Insomma E Cosa devo dire No delle trappole Ci andiamo dopo Ci basta sapere Che continuano a morire Poliziotti corrotti Ci basta sapere questo E Aiuto Però c'è una cosa Di cui devo parlare Quando arriveremo A un certo punto Ecco Succede che Fatemi vedere Se non sto saltando Cose importanti Ok Lui ci siamo Lui ci siamo Questo me lo evidenzio Così lo riprendo dopo Ok Allora Succede che a una certa In tutto questo casino Ehm Viene presa di mira La capa Della stazione di polizia Perché il padre Perché Samuel Jackson Il padre di Zeke Lavorava in polizia Adesso non ci lavora più A capo C'è l'altra donna Che forse Era un po' l'amante Qualcosa di simile Che anche lei Ha un po' coperto gente Lei ha sempre coperto gente Ha sempre coperto tutti i poliziotti Che hanno fatto cose un po' più spinte Insomma Lei viene letteralmente Incatenata a questo tavolo Dove le viene Fatta colare Della cera bollente Sulla faccia E lei per salvarsi Deve recidersi La spina dorsale Ora A parte credo che Muori comunque Se ti recidi La spina dorsale A livello del collo A livello della nuca Credo che muori comunque Quindi Complimento Un'altra trappola Non battibile Insomma Anche se ne uscisse viva Non sarebbe in grado No Non ne sarebbe uscita viva comunque Perché tanto era legata E dice Se riesci a recidertela Allora Ti libererai E potrai scendere da qui Da qui con le tue gambe Sì Ma a parte Se ti recidi la spina dorsale A livello della nuca Anche se non puoi Cioè Magari Ipotizzando che resti vivo Comunque non puoi più controllare niente Dal collo in giù Quindi sarebbe rimasta Soffocata Dalla Chiunque ci sia dietro Sta facendo Un sacco di casini In città Per distrarre l'attenzione Da il vero casino Che sta succedendo Che è questa Capa della polizia Che sta Che sta morendo letteralmente Nella sezione Casi irrisolti E Insomma Lui Zeke Genio In questo film Tutti i poliziotti Pensano Sto chiamando Questo mio collega Al cellulare Non risponde Continua A chiamarlo Altre 20 volte Invece che Chiamare la centrale O un altro numero Che possa avere Contatti con lui Relativamente importante Cioè Non ti risponde La capa della polizia Va bene Chiamala Centrale E fatti dire Dov'è O perlomeno Dite Io non riesco a raggiungerla Ma l'assassino Sta puntando a lei Se sapete dov'è Andate subito A prenderla No Chiamiamola 20 volte Non risponde Non risponde Riguidiamo Noi Fino alla centrale E andiamo A cercarla Noi Sì Fra il tempo Che arrivi Laggiù Lei è già morta Da mo Lei è già morta Da mo Poi scusa Capisco Nello scantinato Ma nessuno Ha sentito Delle cazzo Di urla Nessuno L'ha sentita No No Troppo impegnata A sentire Il ring ring Dei telefoni Delle false emergenze Ma Insomma E su questo pezzo Ci torneremo Un attimo dopo Quando Sapremo un dettaglio In più della storia Insomma Sì 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 Cosa succede Succede che fra altri Casini Alla fine Finalmente Zeke viene catturato Dall'enigmista Finalmente Viene catturato E viene legato A questo tubo Con la manetta E alla sega Con cui palesemente Segarsi la mano Sì lo so che suona malissimo Però Segarsi la mano Per potersi liberare E invece no Non avete questa gioia Trova un ferma capelli In terra E riesce A usarlo come grimaldello Per aprire le manette E guardate Che in questo pezzo Io sono rimasto Molto deluso Non tanto per la scelta Di fare questo Ma per il fatto Che mi sono detto Aspetta Rimettiamo indietro E voglio vedere Se il ferma capelli In terra C'era già Voglio rimetterlo Un attimo indietro E vedere se il ferma capelli In terra C'era di già Voi vi direte Se non voi Qual è la vostra risposta C'era il ferma capelli Oppure no Vi do Dieci secondi Per pensarci Quindi Ok Credo che cinque secondi Bastino Non dieci Insomma La risposta è Sì Il ferma capelli C'era Non se lo sono inventato Non l'hanno messo Fra un'inquadratura E l'altra C'era già E quindi Ci sono rimasto Deluso Perché Mi son detto Cazzo A questo Cioè Avrei tantissimo Voluto Che il ferma capelli Apparisse In un'inquadratura A caso Giusto per dire Che film di merda Non hanno pensato Neanche a quello Invece no Il ferma capelli Ci hanno pensato Insomma Cosa succede Zeke riesce a liberarsi C'è un altro tizio Nella stanza Che era un personaggio Che aveva dei collegamenti Nella storia Aveva una trappola Così E insomma Zeke capisce cosa fare Però quando l'ha capito Il tizio è già morto Quindi Insomma Non è un personaggio importante Non è un personaggio Per cui piangeremo Insomma Zeke continua A avanzare nel palazzo E fatemi vedere Se mi sono perso qualcosa Ma non credo Ok E letteralmente Si scopre Che l'enigmista Era il collega Di Zeke Che gli è stato assegnato All'inizio del caso E che a una certa Risultava anche morto Perché era stato Letteralmente Scuoiato Dentro una macelleria Letteralmente Scorticato Insomma Si scopre Che in realtà Ecco Qui si scoprono Un paio di plot twist Allora Il collega Di cui mi sono scordato Il nome Perché Insomma Ragioni Lo chiameremo Il collega Si scopre Che lui È il figlio Di Un uomo Innocente Che è stato Ucciso Da un poliziotto Perché avrebbe Testimoniato Contro quel poliziotto E che Zeke Non ha fatto niente Per Portare alla luce Il fatto Che quel poliziotto Avesse ucciso Un innocente Insomma La vicenda Andata così Uomo Ha ucciso Tizio Che aveva assistito A Un fattaccio Con quel poliziotto Ma non sapeva E quindi Il poliziotto Uccide questo uomo Innocente Zeke Lo vede Se ne accorge Però in tutti gli anni Non fa nulla Per portare alla luce Questa realtà Bene Il collega Di Zeke È il figlio Di questo uomo Innocente Che è stato ammazzato Che ha visto la scena Che era nascosto In camera E insomma E quindi Zeke Vuole Rifarsela Con No scusami Quindi Il collega Voglio rifarsela Con Zeke E il suo scopo Nobile È di uccidere Tutti i poliziotti Corrotti In modo da Avere Una forza Dell'ordine Che non se la tira più tante Capisce che se facciamo Troppo i fighi Poi alla fine Perdiamo le dita Perdiamo la lingua Eccetera Eccetera Ah E il tizio scorticato Che doveva essere Il collega In realtà Era il tizio Della prima prova Quello Del tre No No Era un altro Era un tizio scorticato A caso Non credo Venisse mai spiegato Chi era il tizio scorticato Ok E Nulla Si scopre Vabbè Si scopre un paio di inghippi Si scoprono cose Però insomma Va bene Il fatto sta che Non ho capito Allora chi fosse il tizio scorticato Nella macelleria E insomma E cosa succede? Succede Che Zeke lo porta All'ultima prova E Letteramente C'è Samuel Jackson Che è attaccato Al soffitto Tipo burattino Con tutti i fili Attaccati addosso E che ovviamente Il suo sangue viene fatto colare Dentro dei barattoli E insomma L'unica cosa che puoi fare Per salvare tuo padre È sparare a quel bersaglio E lui si salverà Però ovviamente Vabbè Cosa succede? Zeke Ha la pistola Con un colpo solo Se spara Al collega Insomma La pigliano tutti nel culo E se spara il babbo Insomma Non ho ben capito Insomma C'è un po' di casino Insomma Per sparare al bersaglio Può salvare il padre Però poi arriva l'inculata Allora Lui spara al bersaglio Salva il padre Il collega Sta scappando Lui arriva dal collega Inizia a picchiarlo E poi si scopre l'inculata Si scopre che Il collega Aveva preparato una trappola La polizia Come entra nella stanza I babbo Viene risollevato Da terra E Letteralmente Fili di un burattino Gli spunta Una finta pistola Al braccio Gli viene fatta puntare La pistola Contro i poliziotti Contro la sua volontà E i poliziotti Sparano direttamente A lui Come ha detto Il suo collega La polizia Prima spara E poi fa domande Ah Questa è proprio Cosa americana Ci ho visto Un bel dissing Alla polizia americana Che Tutto sommato Almeno agli occhi Di me Europeo E che Sotto gli occhi Di tutti Credo che La polizia americana Praticamente statunitense Perché quando si parla di America Si intende Gli Stati Uniti Come se tutti i resti Non ci fosse Però Diciamo l'America Per praticità Quando si pensa La polizia americana E letteralmente Ma loro prima sparano E poi Chiedono Loro non pensano Se vede qualcosa Spara Ti ricordi Nel dubbio Era legittima autodifesa Tutto sommato È morto di arresto Cardiaco Dai È stato un arresto Cardiaco A ucciderlo Certo Anche a me Se mi sparano Nove volte Nella schiena Il mio cuore Smette di battere Ovvio Insomma Cosa succede Il padre muore Crivellato Zeke Purtroppo Resta vivo Il film si chiude Con Zeke Che resta vivo E urla Mentre il collega Se ne va via In un ascensore Non sapremo Ma E qui Mi si aprono Un paio di interrogativi Io penso Che cosa accadrà Dopo la fine del film Tanto Perché Zeke È vivo Zeke E sa Che il collega È quello Che ha architettato Tutto Sa che Il collega È quello Che ha architettato Tutto Quindi Cioè Ipotizzando Che la polizia Creda a Zeke Lui dirà È stato Lui È stato Lui Dovete prenderlo Arrestarlo A questo punto Il collega Dove va Perché Sono sempre Nella stessa Struttura Ora lui A meno che Non abbia L'ascensore Che porta Direttamente In Brasile Dovrebbero comunque Essere in grado Di riuscire a riprenderlo Quindi Il cattivo Moralmente Vince comunque Perché ha rovinato La vita al protagonista Che Porca puttana Non è neanche morto Che cazzo Non è nemmeno morto Zeke Io mi incazzo Per questa roba Perché meritava di morire Era odiosissimo L'ho odiato Per tutto il tempo Insomma E ora Che vi ho rivelato Chi era L'imitatore di Jigsaw Possiamo passare A un altro dettaglio La capa Della polizia Che le viene fatta colare La cera in faccia Ecco Io mi chiedo Ora Qui c'è un po' Un problema tecnico Perché Se l'imitatore Era lui Soltanto Per tutto il tempo Come poteva Il collega Allo stesso tempo Causare Tutti i casini All'interno Della città E al tempo stesso Catturare La capa Della polizia Legarla a un tavolo Mettere un macchinario Con della cera Sopra E far partire Il tutto Anche se lui Non era presente Ma In che lasso Di tempo È riuscito a fare Tutto questo Perché Scusatemi Ora Ipotizziamo anche Un'ora Due ore Nessuno In due ore Anche se la capa Ha detto Sono Nello scantinato Nella sezione Reparti Nella sezione Nel reparto Casi irrisolti Nessuno Ha pensato Dopo due ore Ehi Ma sarà sempre lì C'è un assassino Di Jigsaw in circolazione Noi Abbiamo visto Nella storia Perché Nell'universo Di Spiral Tutte le altre Vicende Di Jigsaw Sono già Accadute Quindi più o meno Sai come Funziona Jigsaw E anche come funzionano I suoi imitatori Ha avuto Quanti imitatori Ha avuto Amanda Ha avuto Hoffman Ha avuto Gordon E ha avuto Anche il Il quarto Tizio Di Legacy Ha avuto Quattro imitatori Hai Un serial killer Più Quattro imitatori Per poter studiare Come funziona La mente Di Jigsaw Di Jigsaw Come persona Personaggio Come ogni Horror Pensano tutti A dividersi Non facciamo Le cose intelligenti No E quindi io mi chiedo Giustamente Ma quindi Come ha fatto Il collega Di Zik A Preparare La trappola Per la capa Della polizia E ad aver Fatto tutti i casini In città Per distogliere L'attenzione E quindi Boh Boh Misteri Misteri Non si sa Non si sa E quindi Boh Come c'è finito Samuel Jackson In tutto questo casino Come c'è finito Poveraccio Aveva anche un ruolo Cazzuto Ci piaceva Come ruolo Come personaggio Peccato e poi Deve morire Per scopi di trama Samuel Ma Quanto ti hanno offerto Quanto ti hanno offerto Per fare quel ruolo Cioè Boh E quindi Nulla Nulla Niente La voce di Zik Non me l'ha fatto mai Prendere sul serio E anche lui Non riusciva Non l'ho trovato Coerente Con le sue idee Non l'ho trovato Coerente Con le idee Che aveva Di voler Proteggere i deboli Di voler essere buono Con tutti E letteralmente Il poliziotto buono Che vuole fare La cosa giusta E vuole Proteggere le persone A lui care Vuole Esporre il male Eccetera Eccetera Insomma Se ci pensiamo bene Questa storia L'abbiamo già vista Nella saga di So La storia del poliziotto Che Non vuole aiuti Da parte di nessuno Che non si fida Della polizia Che vuole Fare tutto Di testa sua Che vuole Che il bene Sovrasti sul male Che vuole essere Il poliziotto giusto L'abbiamo già vista Nella saga Di Jigsaw Perché? Perché il regista È lo stesso Che ha fatto So 2 So 3 E So 4 So Legacy È letteralmente Cioè il protagonista Di So Legacy È letteralmente Il protagonista Di So 4 Ma ha rivisitato È ancora meno Convincente Almeno in So 4 C'era ancora un'idea C'era ancora il mood C'era ancora l'illuminazione Fatta bene Che non sembrava Un film girato In pieno giorno E boh Sicuramente fra un anno O due Uscirà un altro So Me lo sento Nelle viscere Anche se ora Non è confermato niente Ma me lo sento Dentro Che dovrà uscire Un altro Jigsaw E sapete Già Che io lo guarderò Solo per vedere Quanto in basso Possa calare Questa saga Perché Il primo Il primo So Era anche bello Era anche fatto bene L'idea era molto buona Peccato che I soldi I soldi I soldi E insomma Vabbè Aspetto visivo Che dire Ormai non è Anche a livello visivo Non è neanche più Un film di So Ci sono troppe scene Insomma Mi sono illuminata A giorno Come fosse un film Normale Per la musica Insomma La musica ok Vabbè C'è stato anche qualche momentino Che un po' Mi ha fatto cringiare Nel film Però vabbè Insomma Poco poco Il film si apre subito Con un Con un momento Da i politicali Correct Ha rotto il cazzo E già questa cosa Mi è piaciuta Però insomma Boh 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 I am delusion I am delusion Insomma Parliamo delle trappole Parliamo delle trappole La cosa per cui Tutti conoscono So Se te pensi a solo Enigmista Pensi automaticamente Almeno a una Delle trappole Che sono state fatte Nel corso di Sette Otto Nove film Nel corso di Nove film Almeno una Ve ne può venire in mente Assolutamente Anche se non avete mai visto Il film Insomma La prima trappola È quella che vi ho detto È quella del tizio Che viene Stretta la lingua In una morsa E se non se la strappa via Viene Preso dal treno Viene preso Da un treno Insomma Trappola non battibile Trappola non battibile Perché Sì Da quel che mi ha detto Andrea Barraforà Anche se ti strappi la lingua Se riesci a fermare L'emorragia O non muori soffocato Dal sangue Dovresti vivere Però Non si sarebbe salvato Comunque Non si sarebbe salvato Comunque Perché tanto Era in una Galleria A chissà quanti metri Sottoterra Sarebbe morto Ancora prima di arrivare Dai soccorsi O anche solo riuscire A chiamarli Sarebbe morto Lo stesso A meno che Jigsaw Non fosse lì Pronto ad aiutarlo Come è successo In alcuni casi Però Lo scopo Di questo imitatore Era ammazzare Tutti i poliziotti Corrotti Quindi quella trappola È stata fatta apposta Per non essere battuta Quindi non la contiamo Se proprio Vogliamo trovare Un modo In cui potesse Essere battibile Quest'uomo Poteva Provare Ad arreggersi Con le braccia Alla catena Della morsa E Cercando di tirarsi In su Riuscire ad essere Abbastanza in alto Per Superare La cosa Per superare Il treno E forse Avere più tempo Per capire Come fare E boh Ah no è vero Ma tanto poi Il collega Di Zeke Sarebbe tornato Comunque dal cadavere Di lui Per fare una determinata Cosa nella storia E quindi E quindi Boh Sì insomma Fatto sta che Secondo me Quella trappola Non era battibile O per battela Comunque avresti dovuto Avere una forza Nelle braccia Per tirarti su Che era davvero Spaventosa Secondo me Poi che cos'altro C'è stato Ah sì c'è stato Quest'altro poliziotto Dentro la vasca Da bagno Che insomma Come funziona Era una vasca Da bagno Una piscina Un po' Più grandicella Che veniva pian piano Riempita d'acqua E se l'acqua Avrebbe raggiunto I fili di rame Lui sarebbe morto Folgorato Cosa doveva fare Aveva tipo Queste ventosine Queste specie Di manette cinesi Attaccate alle dita E probabilmente Doveva Farsi Strappare via Le dita Da questo macchinario Per potersi salvare Questa invece Secondo me Era strabattibile Era Iper mega Battibile Questa trappola Perché Per un semplice fatto Per quel che abbiamo visto noi Non c'era niente Che costringesse L'uomo all'interno Della mini piscina Poteva tranquillamente Uscire dall'acqua E trovare un modo Per togliersi Le ventosine Perché tanto se Funzionano Tipo manetta cinese C'è un modo Comunque Per liberarsi dalle manette cinesi Un modo c'è E quindi Boh Magari Scendo a girarle In qualche maniera strana Sarebbe riuscito a liberarsi Le dita Però Non sappiamo Se Gixo fosse nei paraggi In quel momento Non sappiamo Se il collega Fosse nei paraggi In quel momento Per controllare Che lui barassi Oppure no Però Ipotizzando Che Sei libero di fare Il cazzo che vuoi E che lui non sia lì Ti lasci morire E basta Cioè Lo lascia lì per dire Tanto morirà comunque Non c'è modo Di fare chissà che Però secondo me quest'uomo Sarebbe potuto sopravvivere Non c'era nulla Secondo me Che lo lasciasse bloccato Dentro la vasca Quindi Poteva tranquillamente uscire E trovare Perlomeno Guadagnare Un po' di tempo In più Per capire Che cosa fare Poi Che altre trappole Ci sono state Vabbè Il tizio scuogliato Non conta Perché non era Nemmeno una vera trappola È semplicemente Stato qualcuno Che è stato scuogliato Così a caso Quindi secondo me Non era nemmeno Una vera trappola Insomma Anche perché Non abbiamo visto Flashback Non abbiamo visto Nessuno Ciao X Voglio fare un gioco Con te Quindi boh Era stato uno Scuogliato a caso Che Se hanno spiegato Chi era Me lo sono perso Poi La capa Poi la capa Ok Sì Questo l'ho detto Ok Ehm Poi c'è stata La capa Della polizia Che era Questa qui Legata al tavolino Con una lama Sulla nuca E Probabilmente Le veniva fatta colare Della cera bollente In faccia Insomma Quello che gli dice Jigsaw è Se te riesci A reciderti La spina dorsale Allora sei libera E puoi andare via Esattamente come Ho spiegato prima Ragazzi O moriva O moriva Bruciata Ostionata Soffocata Dalla cera bollente Oppure Sarebbe morta Comunque Nello stesso modo Perché recidendosi La spina dorsale Sarebbe rimasta Comunque Incatenata al tavolo Sarebbe Comunque Rimasta Incatenata al tavolo Perché Era legata In tutti i modi In che modo Liberarsi Da lì L'avrebbe liberata È vero c'era una specie Di anellino Qualcosa Però Il meccanismo Era troppo Fatto strano Secondo me Non si sarebbe salvata Comunque Era una trappola Fatta per ucciderla E basta Poi 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 Che altro C'è stato Vabbè C'è stato Uno degli ex Colleghi Di Zik Che è letteralmente Messo sopra Questo piedistallo E C'è questo macchinario Che spara Tutti i cocci Di vetri Che vengono Frantumati Dentro la macchina Probabilmente c'è Questo nastro Trasportatore Dove cadono Dentro tutte le bottiglie Che vengono Tritate Da questo macchinario Che poi gli spara Tutti i pezzi Di vetro Nella schiena Questa era Abbattibilissima Era Abbattibilissima In qualsiasi maniera Cioè Cosa bastava fare A parte che Zik poi capisce Dove stava la chiave Per liberarlo Però Quando lo capisce Il tizio è già morto E quindi Insomma Pazienza Ripperoni Però Cosa poteva fare Zik Per evitare Che lui morisse Il macchinario Prendeva i cocci Prendeva I pezzi di vetro Dalle bottiglie Che cadevano Dal nastro trasportatore Era in un magazzino C'era Un'impalcatura Un grande scaffale Enorme Di metallo Poteva tranquillamente Salire Sopra Quel Sopra Quella Scaffalatura E Semplicemente Togliere le bottiglie Dal nastro trasportatore Oppure Prendere altri oggetti Nella stanza C'era un cestino Di metallo Nella stanza Aveva a disposizione Almeno Un cestino Una sega E Altra roba C'era un sacco di roba Che Anche se lui Non potesse Non avesse potuto Salire sull'impalcatura Avrebbe comunque Potuto lanciarla Avrebbe comunque Potuto lanciare la roba Per gettare le bottiglie Giù dal nastro trasportatore E non farle finire Dentro il macchinario Una volta che Finiscono le bottiglie Non ci sono più cocci Da sparare E quindi Sì insomma Boh Va bene Quella morte Era evitabilissima Quella era una di quelle trappole Evitabilissime Poi io ammiro Siccome il tizio Si prende tutti i cocci Nella schiena E Zeke Arriva Che parandosi Con un cestino Si prende a malapena Tre quattro cocci Incredibile E poi Chi c'è Poi c'è Il padre C'è il padre Che è legato Tramite questo affare E che perde Il sangue Via via E che Insomma Fra quattro minuti Arriverà la polizia Fra tre minuti Tuo padre morirà Distanguato Decidi che cosa fare E insomma Questa è un po' complessa Anche perché Il collega Era effettivamente lì Per controllare Che tutto andasse bene Cosa Avrebbe potuto fare Insomma Sarebbe stata battibile Questa trappola Secondo me Secondo me No Secondo me Non sarebbe stata battibile Perché tanto Anche se Il padre Fosse sopravvissuto Come è successo Nel film Sarebbe ritornato in cima E la polizia L'avrebbe crivellato Perché sembrava Gli puntasse la pistola contro Quindi Boh Lui poteva Sparare Al padre Per Porre fine Alle sofferenze E Far finta Di allearsi Con il cattivo Avrebbe potuto Sparare al cattivo E Mettersi davanti Alla porta Per dire Non l'aprite Non aprite la porta O mio padre Morirà Boh Boh Trovate un altro Ingresso Non lo so Siete la polizia Potete sfondare Una finestra Che cazzo Ne so Insomma Forse Se proprio Avesse voluto Fottere il sistema Avrebbe potuto Sparare al collega E Cercare O di lanciare La pistola Al bersaglio Oppure Arampicarsi Da qualche parte Per raggiungere Il bersaglio Trovare altre cose Da lanciare Al bersaglio Perché c'era Roba nella stanza Anche prendere Uno dei barattoli Di sangue In terra Non lo so Qualcosa In zona Forse Samuel Jackson Ne sarebbe Uscito Vivo Probabilmente Ne sarebbe Uscito Vivo In qualche Maniera E Quindi Boh Boh Questo era Solo Spiral Guardiamo Il lato Positivo 84 film Su 100 Stasera Arrivò 85 Perché vado A vedere Al di là Dei sogni E E quindi Ok Ok Ho visto un film Ho visto un film Ragazzi Io spero che Quando uscirà Un altro film Di suo Perché tanto ormai È ovvio Che continueranno A uscire Finché il pubblico Li vuole Continueranno A uscire Vi prego Il prossimo film Di suo Non fatelo così A malapena C'erano trappole Non erano Neanche Godibili Secondo me Non erano Neanche Godibili Almeno Cioè Le trappole Di So Legacy Le trappole Di Legacy Mi sono piaciute Effettivamente Di più Uno Per il fatto Che Effettivamente Erano tutte Battibili Dalla prima All'ultima Erano tutte Strabattibili Ma poi addirittura Aveva Ancora Il fascino Di So So Legacy Aveva ancora Un po' Il fascino Della storia Del C'è un tizio Che Sta facendo Fare testa A questa gente E insomma C'è gente che sta morendo Dobbiamo scoprire chi è E al tempo stesso Vedi anche il gioco Di questi altri concorrenti Quindi Posso dirlo Preferisco Di gran lunga Legacy A Spiral 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 È veramente È So Perché Ci hanno voluto Mettere So Secondo me Se Avessero messo Un qualsiasi altro Serial killer Che faceva Le altre Tra Eh no Però adesso Se fai un film Thriller Con un serial killer Un poliziesco Con un serial killer Che rapisce la gente E gli fa fare i giochi Adesso Copi So Il problema è che adesso So ha già avuto L'idea Di questa cosa E se lo rifacesse Qualcun altro Verrebbe etichettato Etichettato Come Accopiato Da So E quindi Diciamo che So Ha creato Questo problema Che adesso Se la gente Vuole fare Qualcosa Di simile Sembrerà Sempre Una Scopiazzatura Di So E questo film Mi dispiace Perché Se le trappole Fossero state Lavorate Un attimo In un'altra Maniera Se La morte Dei poliziotti Fosse stata gestita In una maniera Un pochettino Più diversa Sarebbe Potuto Tranquillamente Essere stato Un buon Poliziesco Thriller Con il cattivo Che un po' Aveva le sue Buone ragioni Sarebbe stato Un po' Godibile Magari Rilavoriamo Meglio i personaggi Se il personaggio Fosse stato Rilavorato meglio Anzi no Se proprio In tutti i film Ci fosse stato Un pochino Più impegno Secondo me Almeno La sufficienza L'avrebbe raggiunta Secondo me Almeno la sufficienza L'avrebbe raggiunta Quindi C'è Samuel Jackson Che è un pochettino Risolleva il film Ma neanche tanto Purtroppo Lui ci prova Ha un buon ruolo Ha anche Cioè È Samuel Jackson Ragazzi Non gli potete dire nulla Però peccato Che il film In sé Lasci molto A desiderare E quindi Nulla Nulla Questo era Solo Spiral Questo era Solo Spiral Non so se fra poco Vi mando anche Un'altra recensione Perché sono le 7 E alle 9 Forami Viene a prendere Quindi Boh Boh Ci penserò Ciao Ciao